Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo delle Salomon Speed Cross 6 versione in Gore-Tex. Finalmente dopo tre anni Salomon va a rinnovare la sua più iconica scarpa da trail, utilizzata anche molto per il trekking e ne parleremo. E appunto adesso la vediamo insieme in questa recensione guardando nei pregi e difetti. Iniziamo come sempre dal peso. Questa versione 6 è stata decisamente alleggerita. Nella versione 5 il numero 42 pesava sui 330 grammi, qua sono stati tolti all'incirca 35 grammi. Nella nuova versione numero sempre 42 il numero indicativo pesa 295 grammi. Nel mio solito 47 ci sono 50 grammi in più e comunque come peso è abbastanza ridotto per la scarpa. Iniziamo a parlare di questa Speed Cross 6 dalla suola. Classica suola di proprietà di Salomon, la Contagrip, una suola che mi ha dato tante soddisfazioni perché comunque sull'asciutto non ha nessun tipo di problema su nessun tipo di superficie. Per quanto riguarda il bagnato si raccava molto bene sul fango, sul tracciolino, diciamo superficie dove ci può essere un po' di grip. Per quanto riguarda erba bagnata e roccia bagnata invece non tiene per nulla e questo è proprio un fatto della mescola con cui viene fatta la suola. Come potete vedere sul fondo ha dei tasselli molto pronunciati, molto alti e soprattutto ben distanziati. Questo dà modo alla suola di potersi pulire molto velocemente dal fango e quindi ciò di garantirci un buon grip anche su questo tipo di superficie. Inoltre per aiutarci nella frenata e nella spinta come potete vedere il tassello è posizionato con la punta verso il tallone nella parte posteriore per aiutarci nella frenata e nell'impatto col suolo, mentre per aiutarci nella spinta con l'avampiede il tassello è posizionato con la punta verso la punta del nostro piede proprio per aiutarci nella spinta. Un pregio non da poco che mi piace sempre sottolineare vista l'ultima tendenza in ambito di calzature da trekking è che noi abbiamo la suola che corre per tutta la lunghezza. Come potete vedere corre da punta a tacco e non abbiamo nessun centimetro di intersuola esposto. Ma visto che ve l'ho accennato continuiamo e parliamo di intersuola. Intersuola di Salomon Energy 6 Plus. Un'intersuola che dico la verità non mi ha soddisfatto tantissimo soprattutto in termini di isolamento dal terreno. Mi spiego meglio il comparto intersuola e suola non mi hanno dato quella stabilità non mi hanno dato quella protezione dai sassi. Ho utilizzato questa scarpa su terreni non dico rocciosi cioè non dico sono andato a fare dei ghiaioni o delle pietraie ma anche utilizzarli su sentieri dove c'è un po' di roccia alla lunga le rocce si sentono sulla pianta del nostro piede e possono dar veramente fastidio. L'ho utilizzata in sei ore più o meno di attività e dopo due ore avevo quasi male ai piedi proprio perché sentivo le rocce sotto il piede. Poi vedremo sicuramente alla fine dove è meglio utilizzare questa scarpa però vi preannuncio che comparto intersuola e suola vanno escludere tutto quello che è un sentiero o una parte rocciosa. Per quanto riguarda invece cushioning e reattività mi sono trovato bene comunque una scarpa pensata per le ultra. È una scarpa che offre un buon ammortizzamento anche per atleti non proprio leggeri ecco doveste pensare 80 kg non si sarebbe nessun problema. Per quanto riguarda l'aria attività è comunque una scarpa che ha un intersuola bello alto parliamo sul tallone di 32 millimetri e 22 sull'avampiede quindi se la reattività c'è rispetto ad altre scarpe da trail è buona ma sicuramente non è eccezionale come delle scarpe con intersuola più leggero e molto più reattive. Parlando ora della tomaia è una tomaia che mi è piaciuta una tomaia in mesh una tomaia molto elastica ma non mi è piaciuta dal punto di vista della traspirabilità. Ha una membrana in Goretex che per quanto riguarda l'impermeabilità io l'ho messo il piede all'interno del ruscello con abbastanza portata d'acqua e non mi è dato nessun tipo di problema per quanto riguarda l'impermeabilità ma per quanto riguarda la traspirabilità no non mi è piaciuta. Pensate che dopo sei ore d'attività quando ho tirato fuori il piede da questa scarpa avevo la pelle per intenderci simile come quando magari facciamo il bagno comunque stiamo con i piedi a mollo e poi ci viene quella pelle un po' strana quindi davvero la traspirabilità non è sicuramente il punto forte di questa scarpa. Ma tornando a parlare un attimo dell'elasticità mi sono trovato molto bene soprattutto perché essendo elastica dà modo al nostro piede di potersi gonfiare o diminuire di grandezza in base al tipo di attività che stiamo facendo in base anche alla circolazione del sangue all'interno del nostro piede. Troviamo un puntalino bello rinforzato molto bello rinforzato per il caso dovessimo prendere contro le rocce e inoltre abbiamo tutta una parte come potete vedere qua di pezzetti aggiunti in plastica in tpu che vanno ad aggiungerci comfort che vanno anche a proteggerci nel caso dovessimo prendere dentro rocce o radici. Passando a parlare al comparto posteriore troviamo un tallone ben pronunciato un tallone che ci dà tanto tanto sostegno possiamo correrci anche su terreni abbastanza sconnessi senza tanti problemi se volessimo usare questa scarpa per il trekking andrebbe veramente molto bene che dire la conchiglia non è troppo alta quindi non abbiamo grandi problemi sul tendine d'achille è molto imbottito io mi sono trovato veramente molto molto bene e anche quando vado a stringerlo non ho punti di frizione non ho punti in cui mi sono venuti delle vesciche quindi il tallone mi è piaciuto. Infine parliamo di allacciatura allacciatura che è stato un po il punto debole secondo me anche di questa scarpa perché non mi sono trovato così bene abbiamo la classica allacciatura di Salomon molto facile da utilizzare basta tirarla e questa si va a chiudere all'interno della linguetta troviamo il posto dove andare a mettere il cordame in eccesso ma vi dicevo che non mi è piaciuta non mi è piaciuta perché non riesco a stringerla al meglio con questo sistema. Per quanto riguarda la parte un pochino più del collo del piede va bene ma non riesco a stringere l'avampiede cioè vorrei un avampiede più stretto ma non facendo nessun tipo di frizione questo sistema con il comparto dove passa all'interno della scarpa ogni volta che vado a stringerlo e cerco di stringere soprattutto la parte inferiore sull'avampiede poi si smolla e quindi non mi sono trovato bene dal punto di vista dell'allacciatura. Invece per quanto riguarda la linguetta questa è il modello classico imbottita resta ferma non ha dato nessun tipo di problema come vi dicevo c'è la possibilità di mettere all'interno il laccio nella taschina superiore. Mi sono trovato bene quindi nulla da dire. Infine per quanto riguarda la soletta troviamo una soletta ortolite non estraibile non ho avuto nessun tipo di problema il piede non scivola fa bene il suo lavoro anche qua ortolite è sempre una garanzia. Ultimo punto che voglio analizzare sono i materiali perché non mi sono piaciuti tanto questa scarpa non ci ho fatto chissà quanti chilometri ma tantissimi punti in cui si è strappando cioè per intenderci qua sul tallone ho un taglio enorme che non so neanche io come me lo sia fatto. Vabbè per quanto riguarda un po' di cuciture qua dove passano i lacci anche qua si stanno sfilacciando. Lato Maya sì ok in mesh ma nel senso in alcuni punti si vede che non è proprio così tanto resistente. Ho paura che questa scarpa sia perfetta per correre va bene anche per il trekking eccetera ma potremmo avere il problema più di doverla cambiare perché il materiale si è andato a consumare rispetto a doverla cambiare perché si è consumata la suola per classico utilizzo. Veniamo alle conclusioni. Vi consiglio questa scarpa. Allora per quanto riguarda il 3 running sinceramente secondo me c'è di meglio. Il prezzo è molto concorrenziale perché comunque viene venduto a 140 euro probabilmente nei negozi si troverà anche a meno. Se siete amanti delle speedcross e vi siete trovati bene con le speedcross questa è semplicemente un'evoluzione della 5 non è uno stravolgimento quindi se vi siete trovati bene con la 5 vi troverete sicuramente bene anche con questa 6. Se invece vi state cercando una scarpa per fare ultra se siete atleti che non corrono tanto che gli piace una scarpa bella comoda o una scarpa con quale fare tanti chilometri soprattutto di camminata può andar bene ma secondo me ci sono dei modelli che vanno anche meglio. Lascio a voi poi sicuramente decidere in base alla calzata nel senso andate a provarla se vi trovate bene ok altrimenti pensate ad altro. E visto che ci sono per quanto riguarda la calzata soprattutto dal punto di vista dell'avampiede io ho preso il mio solito numero 47 che in questo caso è un 47 e un terzo e non ho avuto nessun tipo di problema. Ultimo punto su quale voglio analizzare perché questa scarpa l'ho vista utilizzare tantissimo anche per il trekking è proprio il punto di vista del liking. Utilizzerei per farci escursionismo? Sì. Io l'ho provata l'ho utilizzata naturalmente come vi dicevo evitate i sentieri se sono troppo rocciosi perché il problema si presenta anche facendo trekking da questo punto di vista però sì la consiglierei la consiglierei forse più per il trekking che per il trail running ecco per il trekking è un'ottima scarpa. Detto ciò ragazzi io nella speranza di essere stato esaurente esotivo anche per questa recensione vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!